Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi ancora una volta parliamo di Sanremo 2021 e lo facciamo commentando la performance e la canzone di Max Gazzè. E per tutto il resto c'è gli appunti perché veramente sono parole impronunciabili. Ragazzi, se volete sapere qualcosa in più a proposito di lui e della sua esibizione Sanremo, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene raga, sto ridendo perché allora, io uno, adoro Max Gazzè, anzi no scusate, prima devo aprire e chiudere una parentesi, se avete aperto questo video per sbaglio, intanto vi ricordo che nel titolo c'è scritto video commento, ma comunque se volete vedere la esibizione ufficiale di Max Gazzè e magari anche il video ufficiale, ve lo lascio sotto linkato nei commenti perché qui su Heller Channel non si vuole rubare nessun contenuto, ma si vuole fare una chiacchiera insieme su argomenti che tutti quanti possiamo apprezzare. Torniamo a Max Gazzè, allora vi dicevo che io lo adoro, lo adoro, lo ascolto da quando ero praticamente bambina, l'ho anche conosciuto perché lui suonava insieme ad un mio carissimo amico che si chiama Leandro, si chiamava Leandro perché purtroppo è venuto a mancare, e proprio Leandro me lo fece conoscere durante uno dei suoi concerti a Milano e io fui contentissima perché lui veramente secondo me è uno degli artisti migliori che ci sono in Italia dal punto di vista cantautorale. Quest'uomo scrive delle canzoni che sembrano tanto tanto divertenti, ritmate, fanno ridere, l'idea che mette sempre lui è molto ironica, anche qua il farmacista lui si pone come il Dalì della biologia e della biochimica, biochimica, andatevi a vedere l'esibizione perché veramente è pazzesco, si pone un attimino come lo scienziato pazzo, come quello che ti porta da un punto ad un altro e lo fa in maniera molto simpatica. Adesso vi dico come ha chiamato la band che l'ho accompagnato perché non me lo ricordo, ce l'ho scritto qua, accompagnato dalla Trifluperazina Monstery Band, ragazzi c'è solo ad inventare, cioè ad inventarsi, solo a concepire di portare una cosa del genere veramente, uno deve essere proprio ok, deve essere proprio convinto, convintissimo e lui lo è. Allora è un bassista pazzesco, io l'ho visto appunto parecchie volte dal vivo, adesso seriamente, però è un grandissimo musicista, un grandissimo arrangiatore, mai scontato né dal punto di vista musicale né dal punto di vista appunto come dicevamo prima dei testi, che ti fanno fare sempre delle grandissime riflessioni. Anche dal punto di vista degli arrangiamenti, credo che il suo sia uno dei brani meglio arrangiati di questo Sanremo, a me è piaciuto tantissimo, sarà che proprio nelle mie orecchie la sua musica risuona proprio da quando sono partita, anche come musicista, per cui mi piace molto e ho apprezzato veramente molto anche l'arrangiamento. Anche dal punto di vista del testo è qualcosa di molto carino, se andate a leggerlo infatti lui si pone come il farmacista che grazie a delle formule chimiche riesce a togliere quelli che sono un po' i luoghi comuni dei difetti delle donne, quindi lo shopping, il fatto che parlino troppo, il fatto che abbiano il mal di testa quando insomma al fidanzato o al compagno gli va di passare una serata piacevole e ci siamo intesi, ok, quindi questo farmacista grazie a queste formule chimiche, tutte a base naturale, riesce a creare la donna perfetta che non viaggia più su questi luoghi comuni e così facendo Max Gazecci strappa un sorriso oltre ad offrirci veramente una performance di altissimo livello come al solito. A me piace molto, mi piacerebbe una volta ogni tanto vedere sul podio canzoni di questo tipo e non la tipica canzone sanremese o la tipica canzone strappalacrime o la tipica canzone forzatamente moderna. Una volta ogni tanto vorrei vedere premiata con il primo posto a Sanremo una canzone ben fatta, ben strutturata, intelligente, con un testo anche divertente, con un po' di umorismo dietro e portata sicuramente da uno degli artisti che ha davvero fatto, ha davvero contribuito a scrivere la storia della musica italiana. Quindi Max Gazecci, io ti auguro il meglio da qua a venire, ma te lo auguravo anche già prima. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, vi leggo tutti. su Eller Channel, vige piena libertà di espressione, anche se la vostra idea è completamente in disaccordo dalla mia. L'unica cosa che vi chiedo è di esprimerla con rispetto, rispetto nei miei confronti che vi offro il canale e la situazione da commentare grazie a questi video, rispetto verso chi vi legge, rispetto verso voi stessi ragazzi, perché i commenti sono pubblici e rimangono pubblici sotto i video e soprattutto rispetto nei confronti degli artisti che si propongono a Sanremo. Detto questo, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi anche tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tantissimo, ma tantissimo, perfettissimo, farmacistissimo amore. Ciao!